Il degrado del centro storico è sotto gli occhi di tutti. Tanto c'è ancora da fare per renderlo vivibile. C'è anche da dire che molti interventi di messa in sicurezza sono stati fatti da parte del comune. Diversi uffici si sono attivati per monitorare il nostro centro storico ed evitare altri simili episodi. Dalla regione sono arrivati un milione di euro che sono serviti all'ente comune per pagare in parte le ditte che hanno eseguito i lavori di demolizione. Sono stati ospitati per diverso tempo in apposite strutture, molti sfollati. È stato dato un tetto sotto cui dormire. Dopo la tragedia venne riattivata la macchina burocratica per l'assegnazione degli alloggi popolari. Adesso diversi cittadini vivono proprio in quelle case. Anche privati cittadini ed imprenditori hanno investito nel cuore antico della città cercando di renderlo più accogliente e caloroso come una volta. Altri fondi occorrono per far rifiorire il centro storico cittadino. Proprio per questo il sindaco Manganella ha inviato una lettera al presidente della regione, Rosario Crocetta. Nella missiva il sindaco racconta di come lo Stato sia stato latitante nei confronti della città di Favara e di come è desolante vedere una cittadina di 33 mila abitanti transennata ed invasa da cumuli di macerie. Chiederemo al governo della regione e al presidente Crocetta di riunire la giunta del governo regionale qui nella città di Favara proprio perché Favara è oggi il simbolo del degrado dei centri storici di tutta la Sicilia. Se da Favara parte una proposta che risanna non soltanto il nostro centro storico ma l'intero territorio siciliano credo che questo è una delle cose più belle che possiamo eventualmente indicare come azione di buon governo della città di Favara. Purtroppo le demolizioni sono all'ordine del giorno, spuntano un po' come i funghi perché case abbandonate da anni purtroppo rischiano di crollare. Noi abbiamo come voi sapete istituito un ufficio che si occupa proprio del centro storico non soltanto per segnalare tutti gli edifici che sono in uno stato di degrado e comunque in ogni caso di pericolo per poi fare gli interventi che prima chiediamo ai cittadini interessati, ai proprietari degli immobili di fare le dovute e necessarie iniziative perché venga risanato e venga messa in sicurezza quelle particolari immobili. Dopodiché dovremmo, così come abbiamo fatto finora, sostituirci ai cittadini nata ambienti sapendo però, e lo voglio annunciare ai vostri microfoni e alla vostra telecamera che i cittadini saranno poi costretti a rimborsare al comune le spese che il comune sostiene per abbattere la casa che non è di proprietà del comune ma di quel o dell'altro cittadino. Sono delle imprese che ancora aspettano di avere per intero pagato il costo dell'intervento che hanno fatto ma provvederemo su questo anche perché chiederemo al governo della regione anche un ulteriore finanziamento o comunque dovremmo recuperare le somme che finora non sono state versate dai cittadini. Il sindaco Manganella ha invitato il governatore della Sicilia, Crocetta, a tenere prossimamente a Favara una riunione di giunta al fine di dimostrare la vicinanza della regione nei confronti della città. Richiesta di cui si farà portavoce l'assessore regionale al territorio d'ambiente, la grigentina Mariella Lobello. Abbiamo parlato con il sindaco della città di Favara e proprio per questo affronteremo tutte le questioni che riguardano il centro storico di Favara in un'apposita riunione che terremo e vedremo se è possibile per ritrovare quelle risorse necessarie a far sì che il centro storico possa trovare fra le risorse finanziarie della regione, seppur piccole, delle soluzioni che possano poi far risanare zone che devono essere risanate ma soprattutto bonificare quelle zone che necessitano invece di dare spazio ad altre soluzioni. Ricordiamo che a seguito del tragico crollo di Via del Carmine la Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta per stabilire eventuali responsabilità, processo che è ancora in corso.